ben ritrovati ragazzi sul nostro canale in questo tutorial andremo a vedere come configurare un controller nella modalità make control apriamo il pannello preferenze una volta settate le nostre periferiche ci spostiamo su superficie di controllo nella superficie di controllo aprite nuovo controller e selezionate make control dopodiché selezionate x touch per la prima periferica di controllo per la versione extended selezionate sempre meno a tendina make control xt dopodiché andate a selezionare x touch extended come modulo di controllo cliccate su ok come vedete l'active mini control è disabilitato mentre trovate abilitato il w ai a questo punto potete anche mettere dello stesso colore i due controller in quanto invece di avere un controller a otto tracce avete un controller a 16 tracce grazie alla versione extend cliccate su applica e andate a chiudere il vostro pannello preferenze dopodiché ci spostiamo sul modulo che abbiamo già utilizzato per l'active control technology però selezioniamo make control e andiamo a premere sulle proprietà abbiamo la possibilità di crearci un nostro preset dove nei vari menu da f1 a f8 abbiamo la possibilità di configurare attraverso i tasti preferenze del nostro controllo selezioniamo come protocollo make control universal per pilotare il master base scegliamo base dopodiché selezioniamo il canale 1 in questo modo muovendo il nostro father master del nostro controller andremo a interagire con il father del master di chi quark a seguire nel pannello troviamo le opzioni fedi touch select channel cioè basterà semplicemente toccare un federe per selezionare il vostro canale mettete pure se ritenuto opportuno la spunta su select highlight track dopodiché nel meter potete selezionare select led più meters dopodiché cliccate sul tasto configura il testo configura vi dà la possibilità di interagire con il vostro controller ora se il controller extended lo trovate alla sinistra dell'x touch lo dovrete configurare come vedete dal video il modulo extended lo configurerete col canale da 1 a 8 mentre la versione dell'x touch lo configurerete dal canale 9 al canale 16 una volta configurato premete nuovamente press again when done cioè cliccate nuovamente quando avete terminato chiudete pure questo punto il menu e potete tranquillamente cominciare a utilizzare i vostri controller in modalità mechi bene anche per questo tutorial è tutto vi ringrazio per averci seguito mettete un like se vi è piaciuto condividete il nostro canale e alla prossima